Musica Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Un vasto campo di alta pressione al momento staziona tra l'Italia e l'Europa centro-occidentale, favorendo cieli sereni e temperature gradevoli su gran parte del nostro stivale, da nord a sud. Nei prossimi giorni potranno verificarsi disturbi lungo i settori adriatici per l'arrivo di correnti più fredde dei Balcani. Ma andiamo a vedere ora nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per lunedì 31 ottobre. Sin dal mattino e per il resto della giornata i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su tutti i settori di Puglia e Basilicata. Qualche nube innocua durante il pomeriggio potrà transitare sulle aree più interne della Basilicata. Cieli stellati durante le ore serali. Le temperature, come vediamo dalla grafica, risulteranno stazionarie sia nei valori massimi che nei valori minimi. Soffieranno ancora venti di maestrale di moderata intensità lungo le coste adriatiche sul centro-sud della Puglia. Altrove risulteranno più calmi. I mari Adriatico e Canale d'Otranto molto mossi, lo Ionio invece poco mosso. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro telespettatore Gabriele Letizia per questo meraviglioso tramonto ricco di colori autunnali, immortalato sulle spiagge sabbiose nei pressi di Porto Cesareo, Lecce. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula oppure alle mail che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti.